ciao ragazzi eccoci al consueto appuntamento della nostra videoricetta voglio spendere due parole su questa ricetta per l'appunto è una ricetta fatta con ortaggi stagione nello specifico dei broccoletti sapete che li utilizziamo spesso perché piace a tutti e quindi ho piacere che anche i miei bambini mangino la verdura perciò vado a utilizzare quello che so che sicuramente mangiano è una minestra di broccoli vi lascio alla ricetta e ci vediamo dopo per i saluti vado a tagliare i broccoletti a cimette piccoline io utilizzo anche il gambo quindi anche il gambo finisce in pentola in acqua fredda che porto ad ebollizione quando l'acqua arriva ad ebollizione vado ad aggiungere due cucchiai di doppio concentrato di pomodoro come vedete io lo metto a sensazione ma potete tranquillamente pesare due cucchiai utilizzo della fregola sarda vado a mettere la fregola all'interno della mia padella dove in realtà i broccoli da quando l'acqua è iniziata a bollire hanno cotto per altri 5 barra 10 minuti io me ne rendo conto quando vado a girare che vedo insomma com'è il fiore faccio cuocere e vado ad impiattare ovviamente ho aggiunto del sale all'acqua questo all'inizio quando ho quando la minestra è pronta aggiungo dell'olio a crudo non vi ho detto che nei broccoletti quando rimettete a lessare all'inizio se avete dell'aglio sono speciali io aglio non ne avevo e quindi tutto senza aglio questo è il piatto finito buon appetito a noi allora ragazzi spero che questa ricetta vi sia piaciuta volevo salutarvi se il video vi è piaciuto mettete un bel like fatemi sapere se replicherete questa ricetta se già la fate se la farete eventualmente se non la fate proprio come la faccio io come la fate voi che io sperimento sempre vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video